Volevo chiedere agli amministratori se hanno intenzione di prenderci per i fondelli o se hanno veramente intenzione di fare i lavori. La misura adesso è davvero colma. A Carpanei i residenti non ne possono più e ancora una volta si sono rivolti a noi di Rete Veneta per raccontare ai nostri microfoni la loro disperazione. I lavori di asfaltatura iniziati qualche settimana fa sono stati bloccati a causa di perdite nelle condotte dell'acqua. Il solito rimpallo di responsabilità, i lavori che non riprendono e in mezzo alla burocrazia loro, i cittadini, le vittime del sistema e la loro esasperazione. Non cambia niente, anche l'ultima volta avete intervistato il sindaco, aveva detto che nel giro di 15 giorni era tutto fatto ma nel giro di un mese siamo ancora qua come prima, anzi peggio. È una Valsugana da brividi, non serve aggiungere molto. Il traffico qui è davvero infernale. Il rumore dei camion e le vibrazioni che provocano i mezzi pesanti che passano lungo la statale 47 rendono la situazione pesantissima. È difficile persino parlare con il signor Martino, è un continuo passaggio di tir. Immaginate di dover vivere lungo questa strada tra le più trafficate e pericolose d'Italia. Ora i residenti sono pronti a passare dalle parole ai fatti. Troppi anni sono passati e troppe promesse. Adesso è il momento di dire basta. Di fronte alla stazione del treno c'è un passaggio pedonale, andiamo tutti là e continuiamo a attraversare la strada così non passa più nessuno. Blocchiamo il traffico e vediamo cosa fanno. Non so cosa dobbiamo fare. O dobbiamo metterci qua con un picco a fare i buchi in mezzo alla strada noi così poi qualcuno verrà a fare qualcosa. Non so che ci dicano loro cosa dobbiamo fare.